Io mi avvicino intanto al nostro caro pianista, perché il nostro Alberto Calì, oltre che un pianista, grandissimo musicista, è anche un autore, un compositore, ha scritto anche tante belle canzoni. Stasera ne canterà una sua, proprio, una sua, dal titolo... Oggi non ho voglia. Oggi non ho voglia. Oggi non ho voglia di cosa? Di cantare? No, no. Se non ti va, andiamo avanti con la trasmissione. Canti o no? Vabbè, canto. Hai voglia. Il titolo? Oggi non ho voglia. Ah, vabbè, allora. Pianoforte e orchestra. L'orchestra non c'è un attimo che doveva arrivare, ma non è arrivata, quindi i ragazzi ancora sono stati presi di sprovvista, perché non conoscevano questa canzone. E quindi io la farò soltanto con il pianoforte e l'orchestra in mente. Sperando di ricordarmela. Oggi non ho voglia di vivere con te, magari spallo tutta la vita così com'è. Oggi non ti ascolto e mi riprenderò il tempo che ho perduto per quello che si può. Quattro passi senza fretta e arriva al mare, l'orizzonte più lontano per vedere. Dove portano le strade che hai nel cuore, quando decidi di cambiare. Oggi non ho voglia di vivere con te, nel sopportare tutto, oggi non ci sto. Oggi non ho voglia di vivere con te, nel sopportare tutto, oggi non ho voglia di vivere con te. E non rimpiango nulla, l'entusiasmo non lo lascio a te. Tanti amici che da tempo vuoi chiamare, ho progetti che non possono aspettare. Come sogni che coltivano passioni, e con niente ti regalano emozioni. Oh, se non ho voglia di vivere con te, magari spallo tutta la vita così com'è. Puoi telefonarmi, risponderà la mia segreteria, l'utente è irraggiungibile, magari forse se ne è andato via.